Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ilaria e questo nuovo video to Prime. Se siete interessati a questo genere di video vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche e se vi va potete anche seguirmi su Instagram o aiutarmi a far crescere l'altro mio canale. Il link lo trovate qui sotto nella descrizione. Da settembre quindi da questo mese tornerò operativa anche lì in quel canale. Detto questo iniziamo. Il caso di oggi ha avuto luogo nel 2013 a Jackson, un comune degli Stati Uniti d'America situato nello stato del Michigan nella contea di Jackson della quale è anche capoluogo. Il 18 maggio del 2013 alle 3 del mattino la polizia ricevette una chiamata di emergenza da parte di una donna. Sosteneva che un uomo fosse ferito e che stesse sanguinando molto e ovviamente c'era bisogno urgentemente di un'ambulanza ma quando l'operatore le chiese che cosa fosse successo e in che parte del corpo l'uomo era ferito lei riattaccò. I soccorsi si precipitarono all'indirizzo indicato dalla donna. Una volta entrati nella casa gli operatori sanitari notarono che l'appartamento era stato messo a soccuadro. Era chiaro che in quella casa era avvenuta una condutazione perché le sedie erano rovesciate, alcune lampade da tavolo erano ridotte praticamente in mille pezzi e l'appartamento era proprio in un completo caos. Inoltre c'erano schizzi di sangue ovunque, per terra, sul soffitto e sui muri. Al centro della stanza principale c'era il corpo di un uomo che giaceva immobile sopra un materasso ad aria sgonfio. Purtroppo i tentativi di rianimarlo furono vani, anche perché quest'uomo era già morto. Dopo circa 20 minuti la donna chiamò ancora una volta la polizia chiedendo ulteriori informazioni. Chiese infatti se l'uomo fosse stato portato in ospedale, ma l'operatore non le rispose, anzi le chiese dove fosse lei in quel momento, ma la donna non disse nulla, anzi riattaccò ancora una volta. La polizia che si era precipitata sul posto non aveva idea di chi fosse questo ragazzo, quindi cercarono degli indizi nell'appartamento, guardarono i nomi riportati sulla cassetta della posta e c'erano scritti due nomi, Marcel Hill e Kamiya Gamet. La donna che stava chiamando i soccorsi era appunto Kamiya, nata nel 1983 e all'epoca dei fatti aveva 31 anni. Prima di andare avanti con la storia voglio descrivere appunto Kamiya. Kamiya era nata in una famiglia piuttosto numerosa, aveva infatti tre fratelli e tre sorelle. I suoi genitori avevano un rapporto molto violento, suo padre era una persona piuttosto aggressiva e aveva delle grosse dipendenze sia da alcol che da sostanze e molto spesso usava violenza sulla moglie, ma a un certo punto la donna decise di lasciarlo, quindi i due si separarono. Ma anche lei aveva dei problemi con le sostanze e come conseguenza quando Kamiya aveva quattro anni lei e i suoi fratelli vennero affidati a una casa famiglia. Nei dodici anni successivi Kamiya rimbalzò da una famiglia adottiva all'altra, sembrava che nessuno volesse prendersi cura di lei e arrivata all'età di 16 anni iniziò a vivere da sola, anche perché la legge lo permetteva. Cominciò a frequentare uomini, quindi iniziò le sue prime relazioni amorose, ma purtroppo, come capita spesso, alla fine si trovava a frequentare uomini con la stessa personalità di suo padre, quindi erano quasi sempre soggetti molto violenti che la picchiavano spesso. I suoi rapporti con gli uomini erano estremamente distruttivi, ma anche lei in realtà aveva una personalità distruttiva. Spesso commetteva reati e la prima condanna di Kamiya risale all'aprile del 2007. Aveva minacciato di uccidere un suo fidanzato ed era stata accusata di violenza domestica. Poche settimane dopo da quell'episodio, nel maggio 2007, venne arrestata per aver tentato di aggredire il suo ragazzo con un estintore, ma non solo. Durante la lite con quest'uomo gli aveva lanciato addosso un seggiolino per auto. Purtroppo però all'interno di questo seggiolino c'era suo figlio di sette mesi, quindi Kamiya venne denunciata anche per abuso su minore. Sulle condizioni del bambino purtroppo non ho trovato nulla, ma presumo che non gli sia successo niente, insomma che altrimenti sarebbe venuto fuori, quindi evidentemente questo episodio si è concluso senza grossi danni. Questa donna abusava di sostanze e di alcol e proprio come era successo a sua madre, gli assistenti sociali presero in custodia i suoi figli, anche perché ne aveva lanciato uno, quindi immagino che abbiano cercato di proteggere questi minori. Questo però la trascinò in un grave stato depressivo, che sfociò in un modo altrettanto distruttivo. Nel 2011 infatti fu arrestata per furto con scasso. Scontò un anno di prigione per questo reato e in realtà quell'anno sembrava essere servito, infatti una volta fuori era decisa a ricominciare da capo, voleva impegnarsi seriamente per riavere la custodia dei suoi figli. Nel 2012 mentre stava cercando un lavoro incontrò l'uomo che sarebbe poi diventato il suo compagno, Marcel Hill, che sarebbe poi la vittima di questo caso. Aveva qualche anno in più di lei, infatti aveva 38 anni. Anche Marcel aveva avuto un'infanzia piuttosto difficile. Sua madre aveva una dipendenza dall'alcol e ne aveva abusato durante il periodo dell'intera gravidanza. Questo aveva inevitabilmente causato dei danni al feto. Infatti Marcel era nato con vari problemi di salute, aveva dei problemi alla schiena, una disabilità cognitiva, un basso quotiente intellettivo e come se non bastasse all'età di nove anni si ammalò di meningite e sempre più o meno nello stesso periodo sua madre morì. Ma a differenza di Camilla, Marcel non venne portato in una casa famiglia perché altri familiari si potevano prendere cura di lui. Anche se aveva dei bisogni speciali, aveva trascorso un'infanzia e un'adolescenza piuttosto tranquilla. Infatti riuscì a concludere gli studi, si diplomò al liceo e nel frattempo faceva addirittura parte di una squadra di wrestling. Una volta finita la scuola iniziò a lavorare in diversi fast food. Dovete sapere amici che Marcel aveva un sogno, voleva diventare uno chef, quindi lavorava nel settore della ristorazione. Ma purtroppo nel 2012 quel lavoro diventò insostenibile per lui, proprio a causa dei problemi che aveva alla schiena. Il dolore che provava era cronico e molto spesso non riusciva a stare in piedi. Infatti camminava con l'aiuto di un bastone, ma comunque poteva contare sugli assegni di invalidità che gli permettevano di vivere una vita normale. Marcel aveva anche un altro sogno, desiderava l'amore, voleva una compagna, voleva impegnarsi, sposarsi e avere una famiglia. E quando conobbe Camilla quel sogno sembrò realizzarsi. Si innamorò subito di lei e anche Camilla sembrava ricambiare i suoi sentimenti. Iniziarono quindi una relazione molto velocemente e Marcel non faceva altro che parlare di lei a tutti quanti, alla sua famiglia, ai suoi amici. Credeva davvero di aver trovato una brava ragazza con cui impegnarsi e creare una famiglia. Tra l'altro lei le faceva da assistente, cioè lo aiutava nei compiti quotidiani, come ad esempio fare il bucato, fare la spesa. Ufficialmente era la sua badante, diciamo. Infatti riceveva anche un compenso tramite assegni versati dallo Stato. Questo significa che Camilla non solo aveva trovato un fidanzato, ma anche un lavoro. Le cose sembravano andare molto bene e i due presero una casa in affitto insieme a Jackson, appunto. Gli amici e i familiari inizialmente non erano preoccupati perché all'apparenza Camilla sembrava una brava ragazza, sembrava una persona gentile e amorevole nei confronti di Marcel. Ma purtroppo quello che succedeva a porte chiuse era davvero molto diverso dalle apparenze. Camilla era una persona molto violenta e sfogava la sua rabbia su Marcel, che purtroppo era sottomesso e non riusciva a reagire. Ecco, questa è una cosa di cui non si parla molto spesso. Comunque anche gli uomini possono essere vittime di violenza. Quindi teniamo sempre a mente questa cosa, perché a volte leggo dei commenti un po' come dire non femministi. Leggo commenti che generalizzano sugli uomini. Non è giusto generalizzare perché appunto esiste anche la violenza sull'uomo, non solo sulla donna. Camilla era molto violenta con lui, intendo fisicamente. Pare che spesso gli lanciasse i piatti addosso e più di una volta si era spinta decisamente oltre. Ovviamente i parenti di Marcel non erano a conoscenza delle reazioni violente di Camilla. Tutto ciò che vi sto raccontando è venuto fuori poi durante il processo. Pensate che in un'occasione Camilla l'aveva pugnalato con un coltello e poi gli aveva ricucito la ferita. Marcel purtroppo non aveva denunciato quell'aggressione alle autorità. In un'altra occasione, precisamente nel Capodanno 2012, Camilla aveva chiamato la polizia a causa di una violenta lite tra di loro. Gli agenti una volta arrivati a casa notarono delle lievi ferite sul corpo di entrambi, ma alla fine nessuno dei due aveva sporto denuncia. Tre mesi dopo, il 3 marzo del 2013, Marcel venne portato in ospedale a causa di una ferita al petto. Camilla lo aveva aggredito e gli aveva perforato un polmone. Ancora una volta Marcel non la denunciò, anzi disse che era caduto dalle scale e che si era procurato quella ferita cadendo sopra un chiodo, quindi atterrando su un chiodo. Ovviamente era una bugia. Qualche giorno dopo, l'8 marzo del 2013, Camilla lo colpì in testa con un martello. Marcel si recò ferito da sua cugina che lo portò in ospedale e lo convinse a denunciare l'aggressione. La ferita richiese alcuni frattempo le autorità si recarono da Camilla. Trovarono il martello sporco di sangue ed era abbastanza chiaro quello che era successo, cioè il fatto che la donna avesse appena colpito Marcel con quel martello. Dunque la accusarono di aggressione e di violenza domestica. Ma il caso venne archiviato rapidamente. Perché? Perché Marcel per l'ennesima volta si era rifiutato di sporgere denuncia contro di lei. A questo punto i parenti di Marcel erano estremamente preoccupati. Cercarono di convincerlo a lasciarla e soprattutto a denunciarla. Ma nulla. Marcel si diceva troppo innamorato di lei quindi proseguì questa relazione senza sporgere denuncia. Il 17 maggio, quindi il giorno prima dell'omicidio, una zia di Marcel affrontò di petto Camilla. Le chiese quali erano le sue intenzioni. Insomma era chiaro che Camilla avesse tutta l'intenzione di far del male al suo compagno, a Marcel. Anzi secondo me era abbastanza chiaro che la sua intenzione era quello di ucciderlo. Non è che tu dai una martellata in testa così tanto per scherzare no? Ma lei disse che non aveva alcuna intenzione di far del male a suo nipote. Ma arriviamo al 18 maggio, quindi il giorno successivo. Marcel e Camilla erano fuori da un bar. Stavano bevendo e stavano facendo uso di sostanze. Ora io non so esattamente che sostanze stavano consumando ma nelle fonti che ho trovato pare che consumassero quella sostanza che inizia con canna. E poi Marcel prendeva anche dei medicinali per curare le sue malattie. A un certo punto iniziarono a litigare per un motivo molto banale, praticamente stavano discutendo per le chiavi di casa. Questa discussione era diventata talmente accesa che qualcuno aveva chiamato la polizia. Comunque purtroppo non fecero nulla, non arrestarono nessuno dei due ed entrambi insieme tornarono a casa. Durante la serata, prima della telefonata di Camilla, una vicina di casa aveva sentito delle urla, aveva sentito piatti che volavano e loro due che litigavano in un modo molto molto acceso. Successivamente chiesero poi a questa vicina per quale motivo non aveva allertato la polizia. Ma dovete sapere che quel quartiere dove abitavano era abitato praticamente da persone che usavano la violenza, quindi diciamo che era quasi una normalità, anche se è brutto da dire, però per loro era quasi normale. Ecco, alle tre di notte quindi una persona chiamò i soccorsi e come vi ho detto appunto poc'anzi, quella persona era proprio Camilla, che aveva appena ucciso brutalmente il suo fidanzato. Quella notte la donna non era sul posto quando aveva chiamato i soccorsi, quindi non era lì sul posto dove era avvenuto l'omicidio, stava chiamando da un'altra parte. Pochi minuti dopo aver trovato Marcel ferito a morte, la polizia riuscì a rintracciare il cellulare da dove era partita la chiamata ed era molto vicina all'appartamento, praticamente era fuori dall'abitazione. Quindi alcuni agenti si guardarono intorno ed era molto buio perché appunto era notte, ma con la torcia riuscirono a vedere una donna che si spostava nell'ombra. Trovarono quindi Camilla che stava camminando al buio. Era chiaramente ubriaca e non appena gli agenti la fermarono notarono subito alcune macchie di sangue sulle sue scarpe. La portarono immediatamente in centrale e le fecero alcune domande. A un certo punto durante l'interrogatorio la donna si sdraiò a terra. Come vi avevo detto prima Camilla era completamente ubriaca e quindi a un certo punto durante l'interrogatorio si addormentò. Gli agenti la lasciarono dormire per un po' di tempo, poi ricominciarono l'interrogatorio. Camilla diede la sua versione dei fatti. Inizialmente disse che quella sera era uscita insieme a un'amica di nome Ashley e quando erano tornate a casa si accorsero che la porta era aperta e l'appartamento era completamente al buio. Una volta all'interno videro Marcel a terra in una pozza di sangue. Ashley quindi aveva chiamato immediatamente il 911 ed entrambe in preda a un attacco di panico scapparono di casa. Inoltre negò di vivere insieme a Marcel e disse che loro erano semplicemente amici. Allora gli agenti le domandarono il motivo per cui sulla cassetta della posta e sul campanello c'era il suo cognome e lei iniziò a piangere disperata. Comunque gli agenti non credevano ovviamente a questa versione quindi continuarono a parlare con lei nel tentativo di farla confessare. Le dissero che quella sera appunto una vicina le aveva sentiti litigare e che questa vicina aveva addirittura guardato dalla finestra di casa e aveva visto Camilla lanciare degli oggetti come piatti e bicchieri e aveva anche visto Marcel che cercava di schivarli. In pratica si era rannicchiato per terra e le implorava di smettere. Nonostante questo comunque Camilla continuava a dire che non c'entrava nulla e sembrava davvero sconvolta dalla notizia della morte di Marcel. A un certo punto gli agenti ne avevano abbastanza delle sue bugie quindi le comunicarono che secondo loro lei era la responsabile della morte di Marcel quindi la accusarono di omicidio. A questo punto la donna iniziò a sbarellare come diciamo qui iniziò a lanciare la sedia e la scrivania mentre era da sola nella stanza dell'interrogatorio. Io spero di essere riuscita a mettere il video direi che è tragicomico comunque come avete potuto vedere la donna era molto arrabbiata e forse pensava di farla franca quindi gli agenti la fermarono e la portarono in cella. Il 24 febbraio 2014 iniziò il processo. A questo punto Camilla cambiò la versione ancora una volta. La difesa sostenne che Camilla non era lucida perché in quel momento cioè nel momento in cui ha ucciso brutalmente il suo fidanzato era ubriaca e sotto l'effetto di alcune sostanze e sostenevano anche che la donna avesse ucciso per legittima difesa. La loro versione era questa praticamente quella sera Camilla si era svegliata di soprassalto perché qualcuno la stava aggredendo. La camera era completamente al buio e quindi Camilla prese il primo oggetto che aveva a disposizione era una lampada da tavolo e colpì in testa l'intruso. Dopodiché lo scontro continuò. Camilla colpì l'uomo con nove oggetti diversi tra cui anche una padella. Ovviamente nessuno credeva a quella versione infatti l'accusa sottolineò che non poteva trattarsi di legittima difesa vista l'eccessiva violenza mostrata nei confronti della vittima. Durante il processo vennero ascoltate molte testimonianze tra cui quella della zia di Marcel. Disse che suo nipote era sempre stato attento alle spese e alle finanze ma da quando aveva incontrato Camilla era sempre senza soldi. Non riusciva a pagare le bollette puntualmente perché pare che questa donna prendesse il suo denaro e alla fine alcuni parenti erano costretti a dargli dei soldi per pagare le spese. Anche il medico legale testimoniò durante il processo e descrisse i risultati dell'autopsia. Disse che Marcel aveva alcune sostanze nel corpo aveva 11 ferite da taglio le aveva alla testa al torace alla schiena e alle braccia. Una delle coltelle aveva colpito il cuore e gli aveva perforato un polmone provocando una fuoriuscita di sangue nella cavità toracica. C'erano tre ferite sulla parte posteriore del corpo e aveva anche ferite da trauma da corpo contundente. C'era una grande lacerazione sopra l'occhio destro e dietro la testa e aveva anche due ferite sulla nuca. Marcel aveva anche ferite da difesa quindi ovviamente aveva cercato di difendersi dalla furia di questa donna. La causa della morte era dovuta a lesioni multiple da corpo contundente. Gli avvocati di Camia avevano provato in tutti i modi a farla passare per una povera vittima. Descrissero la sua aggressione come il frutto di tutte le violenze subite dai suoi compagni precedenti ma non riuscirono a far cambiare idea alla giuria. Infatti fu dichiarata colpevole di omicidio di primo grado. Durante l'ultima udienza poco prima della sentenza una parente di Marcel fece una dichiarazione toccante sull'uomo ricordando com'era, i suoi pregi e di quanto fosse importante per la sua famiglia. Per tutto il tempo Camia aveva mostrato un atteggiamento sprezzante, faceva sorrisi ironici e alzava gli occhi al cielo. A un certo punto ebbe anche il coraggio di interrompere il discorso del familiare domandando tutto qui? Questo comportamento non passò inosservato dal giudice che perse letteralmente le staffe. Io farei un applauso a questo giudice, anzi farei direttamente una stand in ovation. Il 5 marzo 2014 Camia venne condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e direi finalmente, finalmente una persona che non può chiedere la libertà quindi dovrà scontare tutta la vita in galera. E con questo abbiamo finito anche il caso di oggi. Cosa ne pensate di questo caso? Come sempre vi ringrazio specialmente se siete rimasti fino alla fine di questo video. Io come sempre ci tengo a sentire la vostra opinione, soprattutto scrivete dei commenti sulla reazione di questo giudice che per me appunto è da premiare. Io come sempre vi mando un grande abbraccio virtuale e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!